Allora, ecco cosa ci hanno regalato ieri sul mercato mentre ci fanno la spesa, l'aurora è un portachiavi, adesso è finito e la va al triccio, l'aurora lo apro, ecco qua, di cose, è mio, è mio, che c'è tipo un pappagallo, Sì amore un attimo, si te l'hanno regalato a te vero? Allora la senta nei selli, io già mi sono preparata, mi sono messa il costumaggio, adesso vi faccio vedere. ora ora sta ancora dormendo poi i capelli leggerò se necessario ora faccio vedere le immagini io ce le sono messa a 3,5 metterlo anche ad ora un po' il blu è rossa perchè è arrivare sull'occasione evitare a vostri bruciatore evitare sull'occasione il naso ho usato 50 metri poi, quello bello ecco qua la prima volta questa è la prima volta la prima volta poi sta ricostruendo e poi sta scaldando adesso sta scaldando un po' di nero adesso c'è la prima volta andiamo amore ci alziamo per andare al mare per fare cosa amore mare 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 niente ok, ora non puoi venire vale, mare mamma mia niente 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 non più Grazie a tutti